Fino adesso abbiamo attribuito alle nostre forme un singolo colore di riempimento e anche una singola traccia. Tuttavia Illustrator con uno strumento specifico ci permette alla singola forma di attribuire in realtà più riempimenti e più tracce simultaneamente e questo ci permette come vedremo delle possibilità produttive ed espressive e creative aggiungo veramente eccezionali. Partiamo in questo caso dal nostro logo che stiamo sviluppando. Bene, in questo caso ingrandiamo un po' e vado a selezionare questo primo elemento e gli diamo un certo spessore, magari un po' più generoso rispetto a quello che ha inizialmente. Ok, facciamo 8 punti. Ok, ora in questo momento quindi è abbastanza evidente che questo elemento abbia un singolo riempimento e una singola traccia. Tuttavia, osservate che cosa succede se io premo il piccolo pulsante che vediamo nell'area aspetto del pannello delle proprietà. Si apre quello che è il pannello che ci permette di controllare il cosiddetto aspetto del nostro elemento, il quale in questo istante ci sta riassumendo effettivamente quello che già sapevamo, ossia che questo elemento ha un riempimento color rosso e una traccia di 8 punti nera in questo caso. Ma in realtà questo pannello ci permette di fare cose molto più sofisticate. In prima istanza io posso letteralmente controllare separatamente il fattore di opacità o trasparenza che dir si voglia della traccia rispetto al riempimento. Osservate il fatto che in questo istante io possa con un semplice clic su questo piccolo triangolino espandere ulteriormente le informazioni legate al riempimento e accedere in questo caso al fattore di opacità. Facendo un semplice clic ecco che si apre il pannello relativo al controllo della trasparenza quindi del nostro elemento e gli attribuisco in questo caso per esempio al solo ed esclusivo riempimento, questa è la cosa effettivamente molto particolare, un fattore di trasparenza del 70%. Bene, così facendo cosa è successo? Io ho letteralmente reso semi trasparente quindi il riempimento ma il tratto di contorno è perfettamente opaco e posso naturalmente apprezzare questa cosa abbastanza chiaramente nel momento in cui questo elemento si sovrappone ad altri già esistenti all'interno del mio progetto. Quindi veramente molto molto efficace. Ma non solo questo. Torniamo nuovamente a esaminare quindi il nostro elemento e ripristiniamo in questo caso il fattore di opacità al 100%. Do per scontato che esattamente questa stessa possibilità ci è data anche per la traccia. Quindi posso realizzare per esempio un elemento con un riempimento opaco e una traccia simi trasparente alla stessa stregua. Tuttavia nella parte inferiore possiamo anche osservare che sono presenti in particolare due pulsanti che ci permettono letteralmente di aggiungere un'ulteriore tipologia di riempimento e un'ulteriore traccia al mio elemento. A che scopo? Cosa può servire una cosa del genere? Inizialmente sembra effettivamente chiedersi quale possa essere l'utilità. L'utilità è pazzesca. Ora vi faccio vedere. Innanzitutto abbiamo ancora selezionato il nostro elemento e supponiamo che posizionandomi quindi sul primo pulsante io aggiunga una nuova traccia ed è quello che adesso vado a fare. Come vedete si è aggiunta letteralmente una nuova traccia oltre a quella che era già presente. In questo momento questa traccia è spessa esattamente 8 punti nera esattamente come quella che già era presente. Supponiamo che la renda in questo caso più sottile quindi di 5 punti e gli diamo anche una tinta differente per esempio questo bluette. Bene, guardate che cosa è successo. Dovete esattamente interpretare la disposizione di questi elementi esattamente come avviene per i livelli, ossia gli elementi che stanno più in fondo sono più in profondità, più sotto rispetto agli altri. Significa infatti che la traccia blu 5 punti che ho appena creato sta sopra la traccia nera 8 punti e come tale quindi sortisce questo tipo di risultato visivo che io posso controllare nella maniera più disparata e mi permette quindi in questo caso di generare un tratto che ha un'anima blu e un bordo, uno spessore più esterno di colore nero. Prendiamo per esempio il fatto che aggiunga una terza traccia. Perché limitarsi? Quindi creiamo un'ulteriore traccia e in questo caso gli darò uno spessore di 10 punti e di un colore facciamolo verde. Ecco diciamo quello che succede. In questo momento io ho creato un'ulteriore traccia che man mano che le creo queste si sovrappongono a quelle già presenti ed essendo naturalmente più spessa va a coprire quelle sottostanti. No problem perché esattamente come per i livelli io posso prendere questa traccia e trascinarla dal pannello dell'aspetto in una posizione inferiore rispetto alle altre in maniera tale che ottengo quindi questo tipo di risultato. Quindi esattamente proprio quello che volevo. Quindi la combinazione attraverso il pannello aspetto di più tracce ci dà queste incredibili possibilità che ci permettono non soltanto anche di essere creativi ma anche di riuscire a realizzare per esempio un qualche cosa che altrimenti sarebbe difficoltosissimo da realizzare. Perché vi ricordo che in questa maniera e tra poco lo vedremo il nostro tratto è sempre un singolo tracciato. Non vengono create più tracce sovrapposte per ottenere questo tipo di risultato. Quindi ci darà poi la flessibilità per esempio di cambiare forma al mio tracciato nella maniera che voglio. Quindi posso per esempio andare a prendere il mio tracciato e che so andarne a manipolare i contorni facendo sì che quindi lo stesso tracciato si rimodelli senza nessun tipo di problema da parte mia. Vi faccio vedere questo ulteriore esempio. Siamo di fronte quindi a una cartina e vorrei diciamo rappresentare per così dire un percorso autostradale ipotetico su questa cartina e quindi ho la necessità di rappresentare in quest'ambito un tracciato come vengono rappresentate tipicamente nelle cartografie moderne le autostrade quindi sarà diciamo un tratto nero con i tratti bianchi tratteggiati tipici del separatore delle corsie per esempio. Come possiamo fare questo attraverso il pannello aspetto? Super semplice. Guardate allora innanzitutto prendo lo strumento curvatura e facciamo molto banalmente simuliamo proprio il percorso che dobbiamo fare. In questo momento riempimento diciamogli pure nessuno perché non mi interessa mi interessa soltanto il tratto. Ok e facciamo una cosa tipo questa. Ok arriviamo praticamente qua. Ora ingrandiamo adeguatamente diciamo il nostro tratto e vediamo come possiamo ottenere esattamente questo tipo di aspetto. Vado a selezionare quindi il mio tratto e in questo caso vedete che abbiamo una singola traccia. A questa traccia attraverso il pannello aspetto diamogli che so in questo caso uno spessore maggiore giusto per mia comodità. Nel momento in cui io faccio questo osservate che posso accedere comunque anche alle caratteristiche che posso attribuire alla traccia che abbiamo scoperto nelle lezioni precedenti. Con un clic posso per esempio determinare in questo caso che la mia traccia abbia per esempio le estremità arrotondate esattamente come sto facendo in questo caso. Ok ora cosa devo fare? Molto banalmente creerò una nuova traccia. Questa traccia sarà in questo caso bianca e naturalmente decisamente meno spessa. Quindi facciamola per esempio di 0,5 punti. Non solo questo ma attraverso le proprietà della traccia posso dire che questa traccia sia tratteggiata e in questo caso scelgo invece il tipo di troncatura degli estremi in maniera tronca proprio per rappresentare in maniera pressoché fedele proprio la rappresentazione di una strada con la corsia di separazione. Fatto questo potrei ulteriormente andare a rifinire questo tipo di rappresentazione. Per esempio creiamo un'ulteriore traccia e in questo caso l'andremo a inspessire di facciamo per esempio facciamo 3,4 punti o 3,6 ok una cosa come questa il colore potrebbe essere nuovamente nero ma naturalmente non tratteggiato e ora l'unica cosa che devo fare è prendere questa traccia e spostarla letteralmente e gerarchicamente sotto tutte le altre. In questo caso invece che nero scegliamo un colore un po' differenziante che può essere mettiamo verde per esempio. Quindi in questa maniera ho creato questo tratto costituito come vedete da in realtà tre tracce perfettamente sovrapposte tra di loro e vi ricordo in assoluto una possibilità che abbiamo che una volta definito quindi in questo caso questa questo vero e proprio stile grafico che abbiamo attribuito alla nostra traccia dal menu finestra sceglieremo stili di grafica e con un click su nuovo stile possiamo registrare quindi questo stile per riapplicarlo in qualsiasi istante. Quindi in qualsiasi momento metti caso che appunto adesso ripristini la situazione precedente e voglia nuovamente rappresentare un percorso come quello precedente basta fare un click su stile di grafica ed ecco che ho attribuito immediatamente quindi lo stesso stile. Tenendo conto lo ribadisco che questo e questi elementi sono tutti modificabili da parte mia in maniera assolutamente semplice perché si comportano esattamente come fossero un singolo tracciato e questo è davvero una cosa molto potente che ci permette una flessibilità nella costruzione grafica davvero notevole.